Borghi, secondo me come physique du rôle, physique du rôle è perfetto, bravo attore, deve stare un po' attento perché negli ultimi anni è stato, anche giustamente se vogliamo, incensato tanto e quindi rischia di adagiarsi un po' su questa sua notorietà, spero di no. Io adesso non so quanti mesi slash anni abbiano lavorato a questo prodotto, ma vuoi imparare l'accento abruzzese? Se interpreti un personaggio con un forte accento abruzzese, cioè lo fa ogni tanto e in altri punti ha accenti di altre regioni e soprattutto cozza con il fatto che invece Giannini, che è romano, invece lo parla benissimo. Anche perché questo Rocco Siffredi, cioè Rocco Siffredi di Supersex della serie, non il vero perché ripeto non è un documentario, ha molte radici in Abruzzo, cioè l'Abruzzo è centrale, Ortona è centrale nella narrazione di questa serie.